buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con il nostro incontro sul webinar io sono donatella francesco dell'accademia limpedismo e il webinar di oggi è la disfagia i consigli del logopedista sono con noi oggi la dottoressa elena rannese dell'istituto il san raffaele pisana e del santo rita da cascia hospital di roma e la dottoressa roberta zangaglia del reparto parkinson e i disordini del movimento dell'istituto mondino di pavia prima di lasciarvi a loro vi ricordo che chi volesse intervenire facendo appunto delle domande delle osservazioni può farlo cliccando la peccetta arancione sulla destra dello schermo e inserendo appunto il test della domanda dell'intervento nella sessione domande io ora vi lascio la dottoressa zangaglia e buon webinar grazie mille mi fa piacere questo argomento che sicuramente resta tanto interesse nei pazienti con malattia di parkinson e lascio la parola invece alla dottoressa eleonora nese che ci racconterà insomma un po di cose sulla disfagia ma per i partecipanti so che ovviamente sono già stati informati del fatto che dato che la dottoressa ci ci parla della disfagia e ci dà un po di consigli si può intervenire per sfruttare l'occasione di avere una grande esperta per un po di consigli e un po di domande un po di dubbi da da risolvere va bene allora lascio la parola dottoressa nese interrompo solo un secondo per dire che non si sente tanto la voce mi sentite meglio ora perfetto io sono ripeto sono erena rannese sono una logopedista specializzata nei disturbi della deglutizione e nei disturbi del del parkinson chiaramente anche legati alla deglutizione e il nostro intervento di oggi vorrei che fosse più interattivo possibile quindi vorrei lasciare molto spazio alle vostre domande con possibilità di chiarire dubbi di qualsiasi specie tipologia perché molto spesso noi interni a questo settore siamo un pochino lanciati a dar per scontato determinate cose che poi in verità scontate assolutamente non sono perciò vi invito a intervenire anche durante la presentazione qualora aveste dubbi domande o perplessità da voler risolvere subito non so se i partecipanti riescono a sentire bene l'audio che per per me è scomparso nuovamente ok io ancora non riesco a sentirti non so se i partecipanti magari hanno io ho un problema nel senso che non riesco a sentire la dottoressa annese no infatti mi stanno anche mandando qualcosa nell'audio che non funziona credo che anche i partecipanti non riescano a sentire è meglio adesso sì ok allora andiamo senza cuffie quindi dicevamo che in aggiunta ai sintomi basilari del morbo di parkinson troviamo sicuramente una faccia che perde la mimicità del volto che noi chiamiamo faccia e sicomimica una riduzione in dubbio del timbro vocale perché andando avanti con il tempo il timbro si può ridurre dunque una perdita della qualità vocale e non per ultimo la disfagia come segno della patologia leonora ti interrompo perché mi chiedono se puoi riprendere dall'inizio perché credo che effettivamente assolutamente ricominciamo da capo dicevamo che i sintomi principali del parkinson che si presentano e si manifestano sono sicuramente un tremore a riposo una rigidità e delle discinesie quindi dei movimenti involontari in aggiunta a questi tre sintomi principe troviamo altri sintomi che possono inficiare sul parkinson come la perdita dei movimenti del volto quindi una faccia che noi chiamiamo ipomimica una riduzione del timbro e della qualità vocale e non per ultimo anche il problema della disfagia che cosa su chi è il logopedista perché molto spesso non si sa chi è il logopedista noi compariamo nella gazzetta ufficiale nel 1994 e che cosa che cosa possiamo fare la gazzetta ci dice che il profilo professionale del logopedista che in posta essere di promo universitario svolge la propria attività nell'ambito delle patologie del linguaggio della comunicazione dall'età evolutiva fino all'età geriatrica quindi copriamo tutta la fetta della della vita di una persona ma in questo caso non si parla per nulla di disfagia ok perché al momento non eravamo integrato in questo ambito c'era il coniatra che andava al nostro posto c'era il neurologo che seguiva questa situazione per parlare di riabilitazione delle turbe della deglutizione dobbiamo aspettare la conferenza europea nel 1997 a lisbona che ci abilita appunto alla funzione della riabilitazione della deglutizione va bene prima questo non c'era ma che cosa intendiamo prima di parlare di disfagia dobbiamo capire che cosa intendiamo per alimentazione normale saper alimentarsi è l'abilità di saper convogliare il cibo dalla bocca prepararlo quindi masticarlo correttamente e convogliarlo verso l'esofago tutto quello che succede durante questa fase quindi di anomalo determina una disfagia ok quindi l'incapacità di saper convogliare il cibo dalla bocca verso l'ismo delle pauci e verso l'esofago creando alcuni segni che andremo a vedere più tardi ci crea appunto il problema della disfagia come facciamo noi logopedisti a fare una valutazione appunto di un paziente che presenta una disfagia innanzitutto andremo a vedere se ci sono delle vie di alimentazione interali o parenterali sto parlando della tag o sto parlando della nutrizione con le sacche d'accordo poi andremo a vedere lo stato di coscienza del nostro paziente perché perché la presa in carico della persona è una presa in carico globale non trattiamo solamente la persona affetta da parkinson ma ci occupiamo anche della sua famiglia e dei caregiver che sono le persone che primariamente sono imputate in questo percorso di vita ma anche valutare lo stato di coscienza della persona stessa ci aiuta come indicatore a capire quanto lo stesso può seguire o meno i nostri consigli poi andremo a valutare l'orientamento rientra sempre nello stato di coscienza e la valutazione delle abilità motore del volto quelle che noi chiamiamo abilità prassiche cosa sono le abilità prassiche noi chiediamo per esempio di aprire molto la bocca di tirare fuori la lingua di fare dei movimenti con la lingua che possono andare dal destra a sinistra agli angoli della bocca sollevare la punta della lingua verso il naso gonfiare le guance per vedere quanto è tonico tutto il distretto facciale la lingua mandare dei baci per vedere quanto è forte il sigillo labiale che ci aiuta moltissimo nell'atto della deglutizione della masticazione e inoltre chiediamo di fare un bel colpo di tosse per valutare se esiste una tosse efficace che in caso di che qualcosa vada di traverso ci aiuti ad espettorarlo oppure a ritirarlo su per fari deglutirlo e poi chiediamo di fare un piccolo raclaggio per raclaggio intendiamo questo per vedere sempre come sintomo funzionale se effettivamente se qualcosa andasse di traverso la persona riuscirebbe comunque a districare quindi questi sono i nostri riflessi di protezione come dicevo la tosse spontanea o riflessa come faccio a valutare una tosse riflessa qualcuno di voi ha idee arrivano domande dottoressa zangaglia però ce n'era già una che anche per rompere il ghiaccio quindi giusto per capire la tosse è un elemento positivo assolutamente sì quando c'è tosse vuol dire che c'è la capacità della tosse esatto la funzione della tosse è un riflesso di protezione molto importante nel momento in cui c'è la tosse io so perfettamente che se qualcosa mi dovesse andare di traverso sono in grado di ributtarlo fuori quindi una tosse funzionale e fatta da me stesso molto valida già mi dà un'indicazione che comunque questa è efficace se invece la tosse è riflessa quindi conseguente all'ingestione di qualche alimento mi dà comunque una sicurezza che tutto sommato io me la posso cavare e posso ritirare fuori qualcosa che magari mi è andato per traverso quindi assolutamente sì la tosse è una cosa molto importante quando c'è tosse non dico che possiamo stare tranquilli però possiamo comunque pensare che tutto sommato ce la possiamo cavare non ci dovrebbero essere difficoltà altro riflesso di protezione che noi andiamo a vedere anche se non è molto 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 specifico è il riflesso del vomito solitamente andiamo con una bassa lingua dietro dietro verso la fine della lingua abbassiamo e cerchiamo questo riflesso di protezione quindi induciamo proprio e recitiamo il riflesso del vomito perché intanto questa cosa della tosse si vede che ha messato un po' di interesse perché mi chiedo anche se il dare il colpettino invece dietro le spalle per far tossire per fare spellere il cibo può essere una cosa utile se il cibo va di traverso può essere una cosa utile l'importante è non fare questo non iperistendere mai il collo cerchiamo sempre di mantenere una postura che guardi verso il basso altrimenti guardando verso l'alto apriamo tutte le vie aeree e rischiamo che qualcosa ci cada poi nell'albero bronziale come sappiamo nel momento in cui noi mandiamo giù qualsiasi cosa che sia saliva che sia acqua che sia un alimento avvengono alcuni fenomeni che ci vanno a proteggere innanzitutto abbiamo ribaltamento delle epiglottide che è una fogliolina di cattilagine posta a questo livello che va a proteggere le corde vocali le corde vocali solitamente sono sempre aperte quando noi non parliamo e non mangiamo nel momento in cui produciamo dei suoni esse si avvicinano nel momento in cui invece mandiamo giù qualcosa loro si avvicinano e rimangono in una posizione che noi diciamo mediana quindi la chiusura delle epiglottide con la chiusura delle corde vocali consente al cibo di scivolare tranquillamente verso l'esofago diversamente quando c'è un'incoordinazione di questi movimenti alcune cose possono cadere nell'albero bronchiale ed è qui che avviene la tosse quindi quando abbiamo questo fenomeno dobbiamo pensare che c'è stato qualcosa di funzionale oppure di organico che non è andato molto bene quindi organico magari potrebbe essere un'incapacità di chiusura delle corde vocali e un ribaltamento delle epiglottide ritardato d'accordo ci siamo su questo punto potrebbe darci qualche problemino e poi un altro segno che andiamo a vedere quando valutiamo il paziente è la presenza di una voce gorgogliante o meno a seguito dell'assunzione di un alimento cosa intendo per voce gorgogliante? proprio il suono come quando facciamo il caffè quella sorta di rumore che sale quando il caffè sta uscendo proprio una voce gorgogliante che cosa ci può dire questa voce gorgogliante? che qualcosa si può essere fermato a questo livello qui che chiameremo piano glottico d'accordo? ci sono domande dottoressa Zangaglia nel frattempo? stavo raccogliendo un pochettino di domande perché innanzitutto la prima domanda è tutto quello che tu hai raccontato in questo momento è un automatismo nel momento in cui la persona mette il cibo in bocca e scende verso lo stomaco tutti questi meccanismi mi chiedono se si innescano automaticamente non c'è nulla che possiamo fare per innescarli assolutamente no immagino che se iniziamo se introduciamo il cibo in bocca tutto si innesca in modo funzionale un atto dopo l'altro se tutto funziona correttamente assolutamente sì se tutto funziona correttamente abbiamo una preparazione che noi chiamiamo extra orale quindi la pietanza viene cucinata poi una preparazione orale la pietanza viene messa all'interno della bocca e lavorata, masticata dopodiché c'è la fase della deglutizione che poi che convoglia il cibo verso l'esofago tutto questo avviene in maniera assolutamente semplice e naturale perché da sempre mangiamo, da sempre beviamo, da sempre mandiamo giù la saliva molto spesso però quest'atto che è deglutitorio, che è un atto volontario può diventare un atto involontario quando per esempio di notte quando deglutiamo la saliva non siamo più coscienti, non riusciamo a controllare ma una parte di noi sa che vengono compiuti degli atti deglutitori affinché la bocca non sia allagata di saliva in alcuni casi succede che ci sia anche in momenti in cui siamo svegli quindi vigili, coscienti una difficoltà di, come dire, di saper gestire anche la saliva stessa che cola fuori dalla bocca che magari cade prima che io decida di deglutire e quindi mi provo chiratosse in questo caso si può cercare di barcamenare in alcuni modi per esempio mangiare una caramellina può cercare di aiutare un pochettino la caduta involontaria della saliva che tante volte determina appunto una tosse molto importante questo per quanto riguarda le cose volontarie chiaramente e per quanto riguarda la saliva che è molto 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 complicata da gestire in alcuni casi di Parkinson Adesso vorrei introdurre? No però magari viene fuori poi nella presentazione se ci sono dei segnali a cui appunto i pazienti, i familiari devono prestare attenzione per farsi venire il dubbio che ci siano dei problemi nella deludizione se ci sia qualche... Ci sono dei campanellini di allarme Assolutamente sì, ci sono dei campanellini di allarme se volete possiamo fare una piccola intro adesso e poi magari durante il corso della presentazione possiamo riprenderlo quando per esempio bevo l'acqua, posso bere acqua mi può capitare, dopo spiegheremo perché o magari ci arriverete voi e ce lo direte voi che mi venga la tosse la tosse è molto forte questo è già un campanellino di allarme per capire che forse questa consistenza è una consistenza un po' border che non ci riusciamo a gestire al massimo e quindi dobbiamo un pochettino vedere come poter aggiustare il tiro oppure ci può essere una forte lacrimazione con tosse e questo può essere un altro campanellino d'allarme mentre stiamo mangiando un piatto di pasta mentre stiamo mangiando qualsiasi cosa fino ad arrivare al campanellino d'allarme più importante dove in teoria non ci dovremmo mai arrivare perché ci si ferma sempre un passettino prima che è la cianosi quindi questo colore un po' bordeaux un po' violaceo che ci fa capire che qualcosa è andato veramente per traverso prima di arrivare a queste situazioni di pericolo tra virgolette tendenzialmente si richiede sempre una valutazione logopedica ai fini dell'alimentazione quindi qual è il vitto giusto quali sono le cose che io persona affetta da Parkinson posso mangiare come ci arriviamo a questo? ci arriviamo attraverso delle prove alimentari se poi noi ci rendiamo conto che le prove alimentari sono insufficienti perché non ci chiediscono bene tutti i dubbi noi stesse in concomitanza con un referto stirato con i medici richiediamo magari una consulenza apponiatrica per vedere proprio che cosa succede all'interno di questo piano qui nel momento in cui mangiamo e beviamo ma prima di arrivare a questo solitamente si richiede la consulenza di un logopedista quindi noi che cosa facciamo? facciamo delle prove con degli alimenti il mio invito è quello di giocare un pochettino con queste cose voi stessi diteci un pochino secondo voi quali sono le consistenze che adesso vi vado a delencare sul liquido credo non ci siano dubbi le prove con il liquido noi le facciamo con l'acqua perché l'acqua non ha nessun additivo è liscio, insomma è pura, lo stato puro perciò anche se qualcosa dovesse cadere giù nell'albero bronchiale non ci crea grandi difficoltà siamo abbastanza tranquilli non succede nulla diversamente se comincio a fare una prova con un succo di frutta se comincio a fare una prova con il caffè con il tè ci sono delle cose batteriologiche che si vanno a mettere dentro che magari ci possono dare un po' di fastidio nonché anche i coloranti consistenze semisolide avete un'idea di che cosa potrebbe essere una consistenza semisolida? ci sono domande dottoressa Zangaglia in merito? allora, sulle consistenze in questo momento non abbiamo domande però ecco, sto pensando che molto spesso ci sono le semisolide che adesso appunto ti hai messo la curiosità di che cosa sono ma anche quelle che chiamano, che immagino siano anche quelle consistenze che chiamano anche miste o le doppie consistenze che alcune volte troviamo nei refersi può evitare le doppie consistenze che cosa si intende? per consistenza semisolida noi intendiamo tutto quello che cade a goccia un bel purè qualcuno butta lì le briciole di pane che non sono proprio le semisolide, giusto? no, quelle sono solidi fragranti quindi rientrano nella categoria dei solidi così come i cracker, così come le patatine, le noccioline i grissini perché si distruggono quindi all'interno della bocca distruggendosi poi si creano tutte queste mollichine le quali possono recare fastidio perché in questo punto qui ci sono delle taschine dove il cibo talvolta si può andare a mettere e rimane lì non sempre è detto che venga poi diciamo mandato giù con tutto l'atto di grisitorio correttamente soprattutto se c'è un deficit se c'è un problema comunque adesso ci arriviamo l'iter di somministrazione delle prove è proprio quello che vi proietto in slide si parte con il liquido perché il liquido paradossalmente è la consistenza più pericolosa perché? perché non ha consistenza il liquido essendo liquido di per sé molto spesso quando c'è un mal funzionamento del controllo della deglutizione come dicevamo prima tende a cadere giù in anticipo prima che decidiamo di mandare giù quindi alcune goccioline possono scendere scivolare e provocare la tosse pertanto siccome noi quando cominciamo una valutazione non sappiamo che cosa andremo a trovare preferiamo partire sempre con il liquido in maniera tale che cominciamo a vedere il liquido funziona o non funziona mi fa tosse con il liquido oppure non fa tosse a seconda delle due vie poi saprò regolarmi successivamente per quelle che la dottoressa Zangaglia chiamava doppie consistenze quindi il liquido è il nostro alimento principe cominciamo da lui se tutto va bene proseguiamo con il restante le consistenze semisolide stavo spiegando la consistenza semisolida è quella consistenza che cade a goccia quindi non può essere paragonabile al liquido non può essere una cosa che va giù molto velocemente deve essere una cosa che ha consistenza ma comunque cremoso vi faccio ad esempio del purè della crema di riso oppure di uno yogurt greco è proprio la tipica consistenza semisolida alcune marche di yogurt per esempio sono molto 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 liquidi e ci creano un po' di problemi se abbiamo una difficoltà già con i liquidi propri quindi quando noi andiamo a dare un consiglio sulla consistenza semisolida raccomandiamo sempre parenti e pazienti e caregiver di fare attenzione che quello che si deposita sul cucchiaio poi piano piano cada a goccia per quanto riguarda le consistenze morbide intendiamo tutti alimenti cotti ben cotti quindi una pasta ben cotta una carne che non sia attaccata all'osso chiaramente i filetti di carne sono molto più morbidi rispetto a un pezzo di fiorentina attaccata all'osso quello ci può dare un po' di problemi quindi per morbido possiamo intendere un panino all'olio una pasta molto cotta un pesciolino una carne una banana non ci sono problemi consistenze solide intendiamo tutta quella gamma di alimenti di cui stavamo già parlando prima quindi a partire dalla pasta passando poi per un pane un pochino più duro con crosta passando poi a cracker grissini frutta verdura di vario genere doppie consistenze tutto quello che si crea quando un liquido e un solido vengono a contatto quindi non intendo solo le minestrine intendo anche mangiare e bere contemporaneamente se noi logopedisti riscontriamo un problema già con i liquidi quindi all'inizio della valutazione molto probabilmente sapremo già che ci sarà un problema per quello che riguarda le doppie consistenze i nostri consigli sono sempre quelli di staccare il liquido dal pasto quindi a questo punto se non ci sono altre difficoltà alimentari per esempio con i cibi morbidi e di bere prima di mangiare e poi ricominciare a bere mezz'oretta 40 minuti dopo in maniera tale che poi il cibo che magari si può essere fermato sempre a questo piano sia stato con il tempo con le riduzioni anche della saliva ben lavorato e quindi questo piano si sia pulito in questo caso consigliamo di bere successivamente proprio per non incappare poi in quei campanellini d'allarme di cui parlavamo già prima quindi una tosse molto forte un'allarme di rimazione fino ad arrivare alla cianosi scusa mi ti interrompo perché ovviamente della consistenza di alimentare è stato un po' di interesse innanzitutto mi chiedono quindi l'idea di bere un bicchier d'acqua per far scendere il cibo tipo la bicciolina di pane che è rimasta in gola è una pessima idea assolutamente è una pessima idea suggerisco di fare un colpo di tosse e di mandare giù più volte fin quando non si sente tutto pulito il cavo faringeo perché dico questo perché se c'è un problema veramente di doppia consistenza e mi sto già soffocando oppure mi viene tanta tosse con l'alimento che ho mandato giù la difficoltà che poi vado a creare successivamente è quello di non riuscire a gestire una doppia consistenza quindi nel dubbio non sapendo se effettivamente le persone che ci stanno scrivendo hanno un problema di lavorazione appunto di queste doppie consistenze io suggerisco di fare bei colpi di tosse e di continuare a deglutire fin quando uno non si sente completamente libero dall'ingombro questo ve lo do come consiglio principe mi andrei ad addentrare in altre strade perché poi uno dice sì faccio del bene bevo però poi in effetti bere non è mai una buona cosa su queste patologie perché se c'è effettivamente un segno forte di distagia andiamo solamente a far peggio rischiamo comunque poi di arrivare fino a quello che noi cerchiamo di limitare che è quello che noi chiamiamo polmonite da ingesto polmonite ab ingestis quindi quando l'alimento poi entra all'interno dell'albero bronchiale e crea focolai febbridi a causa dell'assunzione dell'ingestione di alcune alcune sostanze che insomma dovrebbero essere nell'albero bronchiale questo mi pare ovvio ci sono altre domande in merito qui appunto mi chiedo veramente per consigli che sono stati dati a persone che hanno già fatto delle valutazioni tipo ti è stato detto che la pastina molto brodosa non va bene ma se la tengo un pochino più asciutta anche se devo evitare delle più inconsistenze così la posso utilizzare ma deve essere molto 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 asciutta il che significa che il liquido la presenza del liquido deve essere praticamente azzerata mi viene in mente un buon minestrone di verdure nel momento in cui metto molte verdure e metto la pasta il liquido si deve praticamente azzerare deve diventare una sorta passatemi il termine di pappone perché se c'è comunque la compresenza di un liquido andiamo sempre nell'ambito delle doppie consistenze le quali possono sempre recarci difficoltà e io vi sconsiglio fortemente di fare questa cosa se ci dovesse essere la presenza di un liquido esiste una polverina che si trova in farmacia e che si chiama addensante la casa che io vi consiglio per esempio è la nutricia di Kenap è molto buona che potete aggiungere a qualsiasi tipo di liquido per addensarlo cioè per renderlo più simile ad un semisolido naturalmente vi dovete un pochettino barcamenare con le consistenze i misurini io non aggiungerei sempre tanto andrei di volta in volta mettete un misurino cominciate a mescolare il liquido oppure la minestrina che sia quando cominciate a vedere che inizia a solidificarsi vuol dire che siete arrivati ad un punto corretto di di saturazione della dell'addensante scusa se continuo però se preferisci andare avanti e poi magari diamo un po' di prego prego appunto mi chiedono molto con degli esempi di consistenze se adatto o meno per esempio per chi fa pratica di usare i liquidi è meglio bere dal bicchiere o da una bottiglia immagino quelle bottiglie forse con il beccuccio allora il mio consiglio è questo se abbiamo una difficoltà con il liquido ci arriveremo poi innanzitutto esistono delle posture che possiamo utilizzare per evitare che ci sia una caduta anticipatoria dell'alimento stesso dopo più tardi vi darò vi darò nota di questo il mio consiglio è quello di utilizzare una cannuccia che può essere inserita al livello proprio del tappo della bottiglia fate un foro sul tappo della bottiglia inserite la cannuccia e il paziente piano piano riesce a gestire a piccoli sorsi l'alimento sempre mantenendo una postura a capo flesso antero flesso che più tardi andremo a vedere per ritardare proprio la caduta del liquido oppure se c'è una patologia molto grave ma chiaramente l'esigenza perché vedete a livello di liquidi i liquidi possono essere sostituiti come dicevo prima addensandoli con questa polverina oppure con le famose acque gel che comunque sono aromatizzate nei casi però non è la stessa cosa di bere un liquido chiaramente nei casi in cui ci sia la necessità o la voglia e ci sia anche un ok da parte del logopedista che segue il paziente perché mi auguro che ci sia stata una valutazione a monte vi posso dire anche di dare i liquidi con i cucchiaini sempre mantenendo una postura a capo antero flesso piano piano un cucchiaino alla volta se vediamo che viene ben gestito può essere un'ottima strategia di risoluzione per quanto riguarda questa caduta prediglutitoria quindi anticipatoria del liquido rispetto all'atto diglutitorio questa è una parte molto importante che andremo ad analizzare inoltre un altro consiglio che vi posso dare molto importante sui liquidi in specie con l'acqua è di utilizzare acqua gasata e non acqua liscia perché il fatto che l'acqua cada prima che decidiamo di mandare giù è determinato dal fatto che non ha una consistenza e quindi la lingua non riesce a sentire l'alimento sul suo corpo sul corpo linguale l'acqua con le bollicine quindi con la nitrite carbonica riesce un pochettino a bypassare questa fase perché c'è una piccola percezione di qualcosa perché insomma è gasata riuscite a sentirla un pochino meglio quindi se c'è una difficoltà con i liquidi primariamente cercate di utilizzare acqua gasata e non acqua liscia altre domande? sono sempre un po' sulle consistenze ma per esempio cerco anche magari di metterle insieme alcune per esempio mi dicevano il pancarre quando ci sono problemi di deputizione è una cosa positiva o no da utilizzare? il pancarre il pancarre si 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 no dici tu che infatti stavo cercando di leggere il pancarre tende ad attaccarsi un pochino in quanto abbastanza spugnoso a livello del palato quindi può creare un po' di problemi così come potrebbe crearli anche un panino all'olio ma il panino all'olio ha comunque una crosticina sopra che riesce ad isolare leggermente la mollichina perciò se proprio dovete fare una scelta prediligete un panino all'olio un panino all'atte piuttosto che il pancarre perché lui essendo proprio piatto non ha possibilità di essere come dire supportato da qualcosa che dia una consistenza ecco ricordatevi sempre questo ve lo volevo dire anche prima che gli alimenti affinché vengano dedutiti con poco sforzo e correttamente devono essere ben conditi quando dico ben conditi intendo con tanto olio tanto pomodoro perché lubrificano lubrificano il cibo e tendono quindi a convogliarlo meglio verso l'esofago e mi raccomando la cottura cercate di andare sempre un pochino oltre i tempi di cottura se c'è un problema di gestione anche dei solidi perché magari molto spesso quello che mi succede è che mi arriva una persona e mi dice ma io la pasta la riesco a mangiare solo che se è troppo dura faccio difficoltà molto bene dico sempre allora andiamo un pochino oltre la cottura andiamo un pochino oltre i tempi di cottura scuociamola quasi e condiamola bene vedrà che difficoltà non ne avrà più e in effetti questo si verifica assolutamente sì altre domande no no per ora direi possiamo proseguire ok in questo slide vi parlavo della presenza senza dei segni insomma di questi campanellini di allarme di cui parlavamo prima dei segni che ci determinano una disfagia e ve li ripeto di nuovo la tosse è molto forte posto deglutitoria quindi bevo e faccio immediatamente tosse oppure mangio un boccone di pasta mando giù e mi viene la tosse questo è un campanellino di allarme molto forte che vi deve scoccare nella testa oppure una lacrimazione quindi quando qualcosa va di traverso mi viene in mente per esempio l'arancio l'arancio è una doppia consistenza quante volte anche a noi è successo che magari mangiando lo spicchio d'arancio un pochino di liquido è caduto prima e ci è venuta una forte tosse e ci bruciava tutto il petto anche quello è un segno molto importante che non dobbiamo sottovalutare e poi questa cianosi che insomma ripeto è la cosa a cui non vogliamo arrivare perché già con il cappanellino della tosse dovremmo essere in grado di saper gestire e dire forse forse mi conviene fare una valutazione da un esperto quindi da un logopedista che si occupa di disfagia oppure andare direttamente da un foniatra e chiedere di fare delle prove alimentari in fibrolaringoscopia non so se qualcuno di voi conosce questo strumento comunque ve lo riassumo è una piccola telecamerina che passa a livello del naso non fa assolutamente male da un po' di fastidio che va a vedere quello che succede a questo livello qui quando mangiamo e beviamo tendenzialmente il foniatra si aiuta con una logopedista esperta e somministra le consistenze esattamente come vi ho fatto nell'ordine in cui vi ho detto quindi sicuramente un liquido sicuramente un semisolido sicuramente un alimento morbido solido e se tutto va bene la doppia consistenza una domanda che è veramente secondo me interessante perché giustamente dice questo signore mastico velocemente e parlo mentre mangio è questo che mi provoca la tosse assolutamente perché effettivamente ci sono tanti nostri comportamenti che migliorati possono già migliorare il mondo la nostra deglutizione assolutamente sì la deglutizione è un momento molto importante quindi le buone regole direbbero che non dovremmo mangiare e parlare contemporaneamente direbbero che non dovremmo mangiare distrendoci guardando programmi televisivi se abbiamo delle difficoltà oppure ascoltare musica dovremmo evitare tutte queste queste cose e anche la masticazione è molto veloce non è di aiuto nel senso che l'alimento comunque va lavorato bene pertanto ci vogliono dei tempi tecnici non possiamo uno o due masticare uno o due mandare giù poi riprendo masticare uno o due mandare giù mediamente una persona che non ha problemi alimentari ci mette dai 20 ai 25 minuti per consumare un pasto completo e per pasto completo intendo un primo un secondo un contorno la frutta quindi non dobbiamo avere fretta e soprattutto se stiamo mangiando bevendo dovremmo assolutamente evitare di parlare chiaramente perché il parlare implica una funzione in più che comunque può dar fastidio alla nostra alimentazione e quindi ci può provocare assolutamente tosse tosse cianosi latimazione perché qualcosa può andare di traverso assolutamente sì perché è un'abitudine molto nazionale parlare mangiando è un'abitudine che abbiamo tutti noi però nei momenti di cui subentra un deficit riconosciuto dobbiamo essere un pochino bravi a lavorarci su e cercare di darci delle buone regole per non metterci in pericolo chiaramente è chiaro che se c'è una condizione normale in cui non abbiamo difficoltà in cui tutto va bene parlare è quasi la normalità ma parliamo sempre dopo aver deglutito qualcosa non durante perché parlare mentre mangiamo è una situazione un pochino estrema che anche io personalmente evito perché potrei comunque avere poi difficoltà a seguito se invece una volta che ho deglutito l'alimento faccio una piccola pausa mi faccio una chiacchiera con la moglie con il caregiver con chi che sia con i figli non ci vedo niente di male però se abbiamo una difficoltà oggettiva andrei un pochino cauta e mi concentrerei più che altro sull'atto reglutitorio comunque a seguito della valutazione con le consistenze che vi ho elencato precedentemente noi tendiamo poi a consigliare una consistenza di vitto che la persona poi porterà con sé fino a prossima rivalutazione è chiaro che tutto è mutabile nel senso se oggi vedessi un paziente che non ha nessuna difficoltà poi gli consiglierei non appena dovesse avere dei campanellini di allarme di riaffacciarsi e di rifare di nuovo una valutazione oppure se avessi una situazione in cui consiglio una dieta frullata cosa che facciamo raramente perché o c'era difficoltà oppure non c'è magari successivamente direi rivediamoci un secondo e parliamone e vediamo che cosa succede perché vi dico che la consistenza frullata non si dà quasi mai si dà a chi ha un quadro di denti parziale quindi a chi ha perso un po' di denti fa fatica a masticare le cose morbide oppure fa fatica a o comunque non è indicato come consistenza semisolida perché comunque quella è una consistenza a livello omogenizzato andiamo a togliere una gran fetta di alimenti anche se adesso tutto si può omogenizzare e dunque consigliamo una dieta frullata però ce la teniamo veramente riserva cibi a consistenza morbida senza doppie consistenze era quello che vi dicevo prima una pasta molto cotta ben condita con tanto pomodoro tanto olio un pesciolino senza spine chiaramente facendo attenzione alle spine una carne molto morbida verdure cotte attenzione alle verdure perché le verdure possono essere un pochino complesse da dover gestire per esempio le verdure a foglio lunga la bieta la cicoria se non spezzettate e arrotolate con la forchetta possono comunque dar fastidio perché si possono fermare a questo livello qui così come i tipi di pasta mi riaggancio prima alla pasta che ho detto prima prediligete pasta corta piuttosto che pasta lunga perché la pasta lunga anch'essa arrotolandosi può fermarsi sempre a livello glottico e può comunque creare tosse oppure disagio alla persona attenzione anche sempre nell'ambito delle verdure all'insalata perché l'insalata è molto fibrosa quindi si possono frammentare questi pezzettini e rimanere a livello del piano glottico un alimento che io sconsiglio quando c'è un problema di gestione degli alimenti è il riso perché il riso essendo molto piccolo può essere masticato come non quindi alcuni pezzi possono essere masticati altri invece possono essere deglutiti interi e si possono sempre fermare nelle taschine che vi dicevo prima va da lì la conseguenza che poi si potrebbero staccare improvvisamente cadere nell'albero bronchiale e dare fastidio un altro consiglio che vi do per quanto riguarda le buone norme di alimentazione è di non distendersi mai subito dopo aver mangiato restate sempre una quarantina di minuti dritti o comunque non reclinati non più di 90 gradi per facilitare la discesa degli alimenti se vi sdraiate succederà questo qualcosa si potrebbe fermare qui improvvisamente voi potreste respirare malamente fare un colpo di tosse fare qualsiasi cosa e quell'alimento potrebbe cadere giù nell'albero bronchiale se siamo un pochino dritti invece gli diamo modo di deglutire di deglutire di deglutire e convolvere tutto verso l'esofago senza difficoltà quindi ci stai dicendo che non solo è importante la consistenza il tipo di alimento ma come viene assunto cioè paziente che sia seduto composto su una sedia con uno schienale e anche la postura è fondamentale immaginatevi che l'alimento segue un percorso un percorso ben indicato quindi il fatto di poter prendere il cibo stare dritti gli dà già un percorso ben indicato il percorso è dalla bocca verso l'esofago già se mi comincio a mettere un pochino più storta un pochino più reclinata posso favorire la caduta anticipatoria dell'alimento quindi posso favorire la tosse quindi posso favorire una lacrimazione quindi posso favorire la cianosi cosa che noi non vogliamo più siamo dritti più siamo dirigenti sotto questo punto di vista normativo più non avremo difficoltà nell'alimentazione cosa succede perché nel frattempo sono arrivate due o tre domande uno è sul riso ci sono alcuni clienti che hanno ricevuto il consiglio di usare il riso quello che si usa per lo svezzamento dei bambini che probabilmente raggiunge quel grado di cottura che rende quasi cremoso il riso è comunque sconsigliabile io lo sconsiglio sempre sconsiglio tutti i formati di pasta piccolini quindi i visini le stelline il riso li sconsiglio perché proprio in quanto piccolini non si ha bene la percezione della quantità e di quello che abbiamo assunto all'interno della cavità orale meglio avere una pasta una pennetta un rigatone anche piccolini perché adesso fanno le pastine più piccole però non il riso tanto meno quello dei neonati perché comunque è sempre molto piccolo e viene sempre mal percepito il corpo linguale deve poter percepire le consistenze quindi non posso dare né troppo né troppo poco né troppo grande né troppo piccolo serve sempre la giusta dimensione mai l'eccesso né da una parte né dall'altra ne approfitto perché ci sono due o tre domande non so se anticipano in realtà un tema che toccherai ma è quello della relazione dell'alimentazione con le fasi on e off cioè se effettivamente è sconsigliabile mangiare in particolari situazioni quando ci sono i movimenti volontari o in fase off e una prima domanda una seconda domanda sempre comunque relata alla terapia è che una paziente riferisce che a fine dose della levodopa ha la percezione di gola gonfia come se si fosse ristretta adesso non so se vuoi intervenire tu forse questo però è più un effetto dell'off motorio che però quindi credo che sia più relato alla fine dell'effetto del farmaco però che è sicuramente anche il campanello del fatto che in quella fase off la paziente non dovrebbe alimentarsi perché comunque durante l'off motorio credo sia sconsigliata l'assunzione di cibo o il pasto assolutamente sì perché ritorniamo un pochettino al nostro incipito in cui dicevamo che ci sono poi delle rigidità associate e anche il distretto orale comunque è fatto di muscoli perciò si rigidisce se andiamo a mangiare ridosso di una fase di off o direttamente all'interno della fase di off avremo sicuramente più difficoltà a maggior ragione se ci sono delle discinesie per il fatto che dicevo prima non riusciamo ad avere un assetto corporale perfetto perché i movimenti involontari ci muovono abbastanza ci fanno ballare tra virgolette quindi è sempre consigliabile un momento di calma momento in cui il dosaggio è corretto il farmaco è entrato in azione la persona è tranquilla non è agitata anche perché ripeto l'atto alimentare è un atto importante per la persona ma è anche conviviale quanti di voi quante persone che ci stanno ascoltando magari decidono di non andare a mangiare fuori perché poi io mi strozzo se mangio una determinata cosa mi viene la tosse oppure sono piena di movimenti involontari se ci vado prima di una certa ora perché il mio farmaco non ha fatta azione e va da sé quindi l'importanza di avere una corretta dieta modulata da un logopedista in concordanza con un coniatra chiaramente e poi sicuramente di assumere qualsiasi cosa che sia un liquido che sia comunque un alimento in una fase di on assolutamente sì non durante un blocco motorio ok grazie prego parlavamo successivamente vi stavo dicendo a seguito delle delle valutazioni ci sono delle cose che noi vi consigliamo di poter fare le posture di compenso che cosa sono vanno a modificare le caratteristiche anatomiche del faringe favorendo il transito del volo ne esistono tantissime le manovre invece le eseguiamo noi logopedisti perciò non vi darò neanche insomma spunto per poterci arrivare perché comunque siano sempre i colleghi che poi quando sanno che devono fare qualche manovra intervengono sulla postura ve ne vorrei portare due in evidenza una assolutamente salvavita l'altra in caso estremi di sicurezza tra virgolette ok quindi le manovre di compenso ve le volevo spiegare sono atti volontari e coscienti e vanno a migliorare quei comportamenti che solitamente sono riflessi prevenendo complicanze di distragia come l'aspirazione ma ripeto le manovre vengono eseguite da noi logopedisti perciò non consigliamo mai né a parenti né a pazienti né a caregiver di addentrarsi in questa fase la postura a capo esteso quella che vi dicevo prima è che tanto sconsiglio sempre ma comunque io ve la rendo nota perché molto spesso le persone hanno una difficoltà di mandare giù cose solide non semisolide non liquide quindi hanno difficoltà con un piatto di pasta la postura a capo esteso quindi in questo modo chiaramente aiuta la discesa dell'alimento in maniera in propulsione verso l'esofago ma è comunque sempre un azzardo perché se non siamo propriamente sicuri che non ci siano difficoltà con i liquidi che tutto sia anatomicamente perfetto la lascerei un po' in cantina perché tanto non è una manovra salva vita magari cuocio di più l'alimento lo lubrifico bene con tanti condimenti e la situazione si risolve da sola la postura su cui invece voglio portare di più la vostra attenzione è proprio la postura a capo a anteroflesso la postura a capo ad anteroflesso è proprio questa quindi l'abbassamento del mento verso il petto che aiuta a rallentare la discesa dell'alimento e questa manovra può essere utilizzata facilmente da tutti perché perché se io mi rendo conto che il liquido scivola o che comunque se ne va via prima che io decida di mandare giù appoggiare e portare il mento verso il petto rallenta proprio anatomicamente la caduta dell'alimento stesso c'è una cosa che potete fare per vedere se effettivamente tutto è stato ben deglutito si pongono due dita a livello dell'ossoioide del famoso pomodio adamo e si aspetta di vedere di sentire anzi che lo scudetto tiroideo che la tiroide faccia una sorta di ascensore quindi che salga e rescenda rapidamente nel momento in cui sentiamo questa ascensione siamo già sicuri che l'alimento che è entrato all'interno della bocca è stato ben lavorato e deglutito correttamente a seguito potete richiedere alla persona di fare una bella ahhh per vedere se effettivamente la voce gorgoglia un pochino o seppure è una voce pulita se non ci sono segni di tosse e la voce non presenta gorgoglie vuol dire che tutto è andato per il verso giusto quindi siamo in grado di poter alimentarci in questo modo non dovete fare nessuna pressione dovete semplicemente poggiare due dita a livello del pomo di Adamo quindi dell'osso ioide e aspettare di sentire questa ascensione è proprio un ascensore sale rapidamente scende rapidamente dopodiché potete richiedere a seguito di fare una bella ahhh e questo è è un consiglio molto molto importante che vi do lo potete fare anche utilizzando la postura del capo anteroflesso a maggior ragione la potete utilizzare perché se ve l'abbiamo consigliata come postura abbiamo la certezza che il liquido o che comunque un alimento X se ne scivoli prima che la persona decida di mandare giù in questo caso voi stessi che siete coloro che si prendono cura della persona riuscite a capire se effettivamente tutto sta andando a dovere o seppure ci sono delle defizioni in merito alla defizione dell'alimento in oggetto allora adesso l'unica cosa non volevo interromperti perché in realtà mi sono arrivate un po' di domande ma l'argomento ovviamente clue è la consistenza degli alimenti e il tipo di dieta da adattare anche se poi vabbè adesso appunto secondo me era altrettanto interessante questa parte sulle manovre diciamo così compensatorie alle problematiche che si possono verificare in acuto però ti dico appunto c'è molto interesse sulla consistenza dell'alimentazione un po' perché forse forse anche per una questione culturale quando il logopedista dà indicazione a cambiare la dieta al paziente è una cosa che non sempre viene vissuta più positivamente e infatti qualcuno mi dice ma poi è necessario per esempio andare da un dietista per avere delle informazioni ulteriori probabilmente non solo sulla composizione della dieta in termini di come si chiama di consistenza ma anche di apporto calorico apporto di nutrienti quindi forse quando c'è la necessità di una dieta adattata un dietista può anche essere assolutamente sì perché sappiamo che poi la tendenza di un paziente con morbo di Parkinson o Parkinsonismi è quella di dimagrire molto velocemente e soprattutto se c'è un problema di distagia quindi di difficoltà di alimentazione il fatto può essere associato del dimagrimento può comunque essere associato perciò quello è più competenza medica però chiaramente indirizzare la persona da un nutrizionista per fare una dieta a calorica appropriata che non dia defezioni che abbia tutto il contenuto necessario perché è chiaro che se poi io dico no mi viene in mente è molto raro però la pasta non la mangiare vabbè allora che mi mangio la pasta no quello no quello no quello no e allora poi subentra la necessità assolutamente di un dietista o di un nutrizionista ma penso più un dietista a questo punto che ci dia delle indicazioni in merito al quantitativo calorico e a quello che possiamo fare chiaramente noi diamo indicazione per quanto riguarda la consistenza alimentare non l'apporto calorico noi possiamo dire per noi è più indicato una dieta semisolida perché la persona ha un problema di deglutizione dei liquidi un problema di deglutizione delle sostanze morbide o comunque solide perché non riesce a gestirle perché comunque fa fatica ricordatevi che uno dei segni della disfagia o anzi un sintomo è anche l'affaticabilità molto spesso accade che le persone si affatichino a fare un pasto completo anche in quel caso si può pensare a modificare una dieta facendo un alimento a consistenza morbida oppure un altro alimento a consistenza omogenizzata nulla ce lo vieta l'importante è non andare ad inficiare poi la tranquillità della persona perché comunque se io so che per mangiare un pasto completo ci metto un'ora e comunque a metà mi affatico stiamo perdendo un sacco di punti perché non stiamo facendo nessun atto migliorativo nella vita di questa persona magari fare un training di bruttitorio con un logopedista spezzare il pasto facendo un parte del pasto a livello omogenizzato che è una consistenza assolutamente semplice da gestire e un'altra parte a consistenza morbida oppure normale è già di aiuto insomma assolutamente ne approfitto ci sono dei partecipanti che ti ringraziano per i consigli che sono stati dati anche perché credo che in qualche modo sia emerso il fatto che adattare la dieta non è sempre una privazione sarà una privazione o si può mangiare bene e con gusto soprattutto pure adattando la dieta che è la cosa secondo me da da trasmettere ai pazienti perché non so io penso che succeda spesso anche in ospedale in cui queste diete adattate che però sono anche molto però vie ragioni organizzative così molto rigide però non soddisfino il paziente che poi abbandona il pasto a metà perché magari la classica dieta frullata il pure che non ha sapore sto pensando al pasto in ospedale il discorso è tanto valido per loro quanto per noi consistenza odore sapore colore sono fondamentali se già dobbiamo privarci della consistenza perché comunque per necessità dobbiamo variarla almeno il sapore il colore l'odore dobbiamo dare non possiamo assolutamente privare la persona a meno che non ci siano delle indicazioni mediche che dicano serve una dieta iposotica serve una dieta in questo modo ma è chiaro che tutto può essere adattato poi soprattutto nei nostri anni in cui è arrivato il bellissimo bimbi che può omogenizzare qualsiasi cosa non vedo perché non dovremmo far gustare al nostro paziente qualsiasi tipo di alimento se proprio ci dovrebbe ci sia una privazione a livello di consistenza e che quindi nel caso più tragico diamo una consistenza omogenizzata ormai omogenizziamo tutto possiamo omogenizzare anche dolci perciò non ne vedo proprio la necessità di privarlo assolutamente no ricordiamoci che la deglutizione e comunque il mangiare è un atto conviviale ci metta a contatto con la nostra sfera sociale e come tale la dobbiamo mantenere non è assolutamente un deficit e invece questo te lo chiedo io che forse esola un po' da quello che è stato detto però spesso in ambulatorio non succede di chiedere al paziente la difficoltà a deglutire e magari riferiscono dei sintomi che ci fanno un po' venire il sospetto che la deglutizione non sia perfetta allora si consigliano degli adeguamenti e la risposta però che in genere il paziente o il carico il merda ma non è mai andato nulla di traverso ecco ci sono anche altre cose secondo me che possono essere comunque cioè non è solo il cibo che va di traverso e soffoca il paziente ma è l'inalazione penso anche l'aspirazione nelle vie aeree che predispone a infezioni delle polmonarie che poi possono essere ripetute e complicate o questo può essere davvero era quello che dicevamo prima io faccio la tosse ma se faccio la tosse vuol dire che qualcosa mi è andato di traverso anche se fosse una tosse sporadica vuol dire che qualcosa comunque nell'albero bronchiale è penetrato quindi c'è stata una penetrazione con potenziale inalazione aspirazione che comunque alla lunga può dare questa accensione di pocolai febbrili che ci mettono in una condizione di malessere generale di disagio quindi e lo dobbiamo sempre considerare come un campanellino d'allarme però molto spesso vengono sottovalutati oppure prese alla leggera perché non sempre si va a pensare oddio c'è un c'è un problema di glutitorio perché papà ha fatto che ne so in cinque giorni tre colpi di tosse bevendo l'acqua oppure bevendo il vino allora dobbiamo sempre essere un pochino noi morigerati quando si rivolgono a noi magari perché vengono in clinica magari perché invece effettivamente vedono che c'è una difficoltà ma non la sanno neanche registrare oggettivamente essere un pochino culati e dire va bene facciamo delle indagini chiamiamo un logopedista vediamo facciamo delle prove alimentari vediamo cosa ne esce fuori fatto questo poi possiamo regolarci tranquillamente ma non sono ma l'aspetto della tostia non è assolutamente da sottovalutare assolutamente no e mi raccomando in questo periodo che è periodo di mandarini mandaranci crementini aranci quelli sono tutti alimenti a doppia consistenza perché all'interno del solito contengono un liquido perciò il liquido viene espulso e chiaramente se c'è una difficoltà con le doppie consistenze sono cibi a categoria di doppia consistenza qui un po' di persone mi chiedono insomma qualche consiglio qualche esercizio da un lato per la voce e la seconda cosa invece se ci sono anche degli esercizi che migliorano la deglutizione qualcosa che si possa fare a casa per migliorare un pochino la deglutizione e poi mi chiede anche la voce probabilmente c'è una correlazione tra i disturbi fonatori e della deglutizione sì c'è una correlazione per il semplice fatto che comunque si parla di muscoli perciò indebolendosi i muscoli del distretto orale per quanto riguarda il linguaggio si possono indebolire anche sotto l'aspetto deglutitorio perché sono gli stessi muscoli che noi occupiamo per parlare che poi si occupano della deglutizione parlo delle labbra parlo della lingua parlo delle stesse corde vocali che si indeboliscono quindi sì c'è una correlazione per quanto riguarda gli esercizi da fare da soli mi posso dire di fare un po' di movimenti pratici quindi aprire e chiudere la bocca tirare fuori la lingua bisogna sempre lavorare sui distretti un pochino inficiati ma non c'è effettiva correlazione che le prassie possano effettivamente migliorare la deglutizione la cosa che migliora la deglutizione è sicuramente il training aiuto è andato un attimo via la tua voce che viene fatto comunque con degli esperti aspetta ci siamo arrivati al training ok dicevo che comunque questi esercizi possono un pochino dare la pervenza di miglioramento ma in verità ciò che risolve la deglutizione la migliore è sicuramente un training deglutologico fatto con un logopedista che si occupa di deglutologia quindi di distagia per la voce c'è solamente un'evidenza scientifica importante che passa attraverso il metodo LSVT Loud acronimo di Lee Silverman scusate Voice Treatment che è il metodo assolutamente più sicuro assolutamente con evidenze scientifiche e ve lo posso comprovare perché lo so lo pratico quindi so che ci sono miglioramenti a livello degli aspetti di timbre e qualità vocale e di pari passo anche a livello di deglutizione che chiaramente la storia è sempre la stessa sì io quelle domande credo di aver concluso mi sembra che ci sia stata una bella interazione insomma tante domande tante tante veramente sono molto contenta bene io a questo punto intervengo per ringraziarvi devo dire insomma che anche a me è interessato molto questo webinar insieme al mio collega facevamo gli esercizi cercavamo insomma ci siamo molto immedesimati ci è piaciuto veramente tanto molto molto pratico quindi vi ringrazio tantissimo ringrazio la dottoressa Roberta Zangaglia e la dottoressa Renor Annese per questo super webinar anche molto interattivo e con molte domande ringrazio quindi voi che avete partecipato facendo così tante domande ai nostri ospiti e a questo punto vi aspettiamo per i nostri prossimi appuntamenti con il webinar che appunto sarà nel prossimo il 12 dicembre e a partire appunto con la nuova programmazione del 2020 già a gennaio il 16 gennaio io vi ringrazio e buon pomeriggio a tutti arrivederci arrivederci buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti